Parti e cerca di continuare a sorridere, trovate un po' di rock'n'roll alla radio e vai verso tutta la vita che c'è con tutto il coraggio che riesci a trovare e tutta la fiducia che riesci ad alimentare. Sii valoroso, sii coraggioso, resisti, tutto il resto è buio. Stephen King Sempre si dice che per ottenere qualcosa nella vita bisogna tenere duro e perseverare. Questo però è vero per i nostri desideri, la nostra vita è tutto quello che possiamo decidere di realizzare. Quello che è esterno a noi, quindi non sotto il nostro controllo, dobbiamo imparare a mollarlo se non è in linea con la nostra vita, anche se ci fa male farlo, perché se persistiamo potrebbe far male a noi. A Nesneen diceva Ciò che non si può trasformare in qualcosa di meraviglioso bisogna lasciarlo andare. Questo vale ancora di più quando si tratta di persone, perché che ci piaccia oppure no, ognuno ha il suo modo di pensare e vivere e nessuno può condizionare nessuno, non solo perché non sarebbe giusto o corretto, ma perché è impossibile senza il consenso mentale dell'interessato. Può trattarsi alle volte di persone care che noi vediamo rovinarsi per scelte sbagliate o che sono ostili nei nostri confronti e noi non riusciamo a mollare la presa perché ci fa soffrire la situazione. Dobbiamo comunque darsi un limite perché una volta provate tutte le strategie a nostra disposizione e provato non a cambiarli ma a dare loro strumenti per farlo, stop. A prescindere dalla loro scelta noi dobbiamo concentrarci sulla nostra vita perché se continuiamo con la loro non solo peggioreremo la situazione, ma cadremo anche noi in una vita che non è più la nostra. Non sarebbe abbandono, ma rispetto per la loro vita e per la nostra, quindi non bisogna sentirsi in colpa perché è una scelta che hanno fatto loro e non li avete costretti voi, come direbbero se continuate. Quindi voi state salvando voi e non condannando loro. Steve Maraboli ha detto Lasciare andare significa rendersi conto che alcune persone fanno parte della tua storia, ma non fanno parte del tuo destino. La vita è un continuum, si cammina, si impara, si soffre, si è felice, si esperisce e si cresce in un continuo divenire e trasformarsi. Ognuno lo fa a modo suo e con i suoi tempi, ma tutti devono farlo in un modo o nell'altro. Non riuscire a mollare è solo paura di diventare, ma questo ci fa rischiare solo di non arrivare mai. La vita va vissuta ed ognuno a modo suo, accogliendo quello che ci offre per farci migliorare e lasciando andare quello che può farci peggiorare. Vi lascio con una bellissima citazione, spesso associata a Tao Te Ching o Lao Tzu, ma a prescindere da chi l'ha scritta, è comunque un messaggio valido. Quando lascio andare quello che sono, divento quello che potrei essere. Quando lascio andare quello che ho, ricevo quello di cui ho bisogno. Ciao e alla prossima.